Un intervento considerato di routine, d'altronde programmato, quello a cui doveva essere sottoposto il 47enne Fabio D'Alessandro, deceduto durante un intervento programmato di rimozione della colecistin laparoscopia e deceduto due giorni fa nel reparto di chirurgia generale universitaria del Policlinico di Foggia. I familiari hanno presentato denuncia alle forze di polizia, è stata acquisita la cartella clinica che ora si attende la decisione della magistratura in merito al conferimento dell'autopsia che potrebbe chiarire le cause precise del decesso. Attendiamo l'autopsia e collaboriamo con la procura per addivenire all'accertamento dei fatti, ha sottolineato il legale della famiglia della vittima l'avvocato Savino Lacerenza.